Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Secondo appuntamento con Abilmente per il progetto Aspettando Abilmente. Troverete il tutorial di questi fiori glitterati in killing sul canale Abilmente. Abilmente è la fiera della creatività che vi aspetta nelle sue edizioni di Vicenza e di Roma. Tutte le informazioni che potrebbero interessarvi sulla fiera Abilmente le trovate qui giù in box informazioni. Vi aspetto anche sul canale di Abilmente a fare il tipo per me, mentre qui su Arte per Te ci vediamo per il prossimo video. Ciao!